Buongiorno, Italia Pro. Rav, come ci liberiamo dalla sensazione di essere in un cerchio che non finisce mai? Ossia, tu hai parlato del fatto che noi quando avanziamo proviamo un grado di aviut sempre più grande. Come facciamo a sapere di aver corretto un grado di aviut e adesso se ne è presentato un altro e non cadere in quella sensazione dove non sappiamo dove siamo? E noi pensiamo di essere sempre allo stesso punto, dopo tutto il lavoro che facciamo. Voi arrivate a uno stato rituale quando vi liberate del vostro frutto, sentendo questo? Un altro modo il vostro desdicevere? Simple. Pensate, che ricevo, che ricevo, che ricevo? E allora non sarete capaci di ricevere spiritualità, perché la verità unicamente la raggiungerete quando non vogliamo conoscere la verità, ma che vuoi incorporarmi? E voglio fare con me qualsiasi cosa che io non capisca niente con la mente del cuore. Quello che stai chiedendo è il contrario. Che vada a perdere la mia mente e il controllo della situazione? No, no. Dobbiamo farci a un grado chiamato fede per sopra la ragione. Cioè stare per sopra della forza di ricezione, più che la forza di ricezione. C'è una rivoluzione interna che deve succedere in ogni persona. E tutti noi siamo pronti per questo. Siamo pronti costruiti, siamo preparati per questo. E stiamo già dando molti passi. E davanti a noi c'è un'entrata davanti a noi, per sopra la ragione. E' per questo che la cosa principale qua è essere liberato del fatto di chi sono io, che cosa mi succede a me, eccetera. Qualsiasi cosa che mi succede adesso è quello che succede al gruppo e nella misura che io investa in loro. Questo è quello che io vado a ottenere. Non è ancora l'Ishma, per il bene suo, ma per il fatto che inizia a costruire degli elementi fuori di me. E allora andiamo a raggiungere questo stato al quale arriveremo presto. Se io voglio sapere quello che mi va a succedere, è questo quello che mi va a succedere. È quello che mi succede col mio gruppo. Quello è quello che mi succede a me, se voglio saperlo. Non è semplice. Però parlo così, con tutta la serietà, perché non c'è un'altra opzione. Voi vedrete quanto il mondo sta cambiando e spingendoci in una forma tale e tutto il mondo sta lì cercando come fare, come svilupparsi, come stare in questo mondo. che è completamente in oscurità. Unicamente la connessione fra le persone. Loro andranno a scoprire questo più avanti. Ancora non abbiamo mancanze sufficienti per questo. Amarezza. Però quando non avete nessun'altra opzione, allora andrete a accettare. E andrete a capire che questa è la soluzione. Noi lo accettiamo a partire dallo sviluppo dell'anima di tutti e ognuno. E arriverete a questo. No, nella forma positiva, ma nella forma negativa. Però arriverete a questo. E' per questo che noi otterremo da loro un desiderio addizionale. Non importa se è qualcosa corrotto, non importa, è addizionale. Loro portano il desiderio addizionale dei vasi rotti. E noi dobbiamo scoprire unicamente in Gagata-Wenheim questa forza che ci eleva come un globo, con l'elio, come un pallone con l'elio. Un gas leggero che dopo ci va a levare sopra. Perché? Per poter elevare tutta l'umanità al grado del bore.